ala 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 ai ragazzi come va io sono feri niki e sono stefe che stagione venerdì 13 ebbene si siamo tornati in questo gioco e le premesse di inizio video secondo me non sono delle migliori no no feri 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 questo oggi proviamo una cosa impossibile a vincere scappando in 5 minuti ma non è possibile secondo me lo decido io allora il timer in editing l'ho già messo feri ce l'hai vicino? si ok ok allora stefe mi chiedo perché tutti i nostri video di friday iniziano con tu vicino a jason feri è jason vicino? si è vicino a me cioè ma perché? perché tutti iniziano così? è giusto così ma che cavolo allora 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 oh yes che succede stefe dimmi cosa hai trovato ho già trovato la ventola per la barca feri bravissimo 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 allora io sto controllando le case vicino all'auto vediamo se riesco a trovare qualcosa che ci permetta eventualmente anche di scappare in auto no 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 feri vieni vicino alla barca tanto ci manca soltanto il gas che probabilmente è nella stessa casa dove ero io o in quella a fianco quindi scappiamo via in barca velocissimi ovviamente come al solito io sono l'altra parte della mappa oh ma quello lo sapevamo già come sempre però ce la facciamo ce la facciamo me lo sento allora inizio a montare questo pezzo così nel caso in cui jason dopo arriva dobbiamo fare meno cose ok sto andando molto bene perfetto si è riuscito a fare tutto al primo colpo qua cosa c'era? perché ho visto che c'è un oggetto che cos'è? un bastone me lo prendo nel caso in cui jason mi passi vicino e torno in quella casa a vedere se c'è la benzina allora stiamo andando bene siamo partiti bene ed è passato solo un minuto tu dimmi che è impossibile scappare in 5 minuti adesso dimmi che non ci stai iniziando a credere un po' apro qua ti prego dimmi che c'è da qualche parte la benzina tagliamo da qui dimmi che c'è qua so che non c'è ma voglio trovare anche un coltellino svizzero per stare più tranquillo io l'ho trovato un coltellino ho trovato un coltellino si tu mi devi trovare la benzina a fare è quella la cosa fondamentale allora qua c'è una cura che mi prendo volentieri controllo anche io le case qui in zone vediamo se troviamo qualcosa siamo a 3 minuti e 25 è impossibile Steph ce la facciamo ce la facciamo io adesso vieni verso di me vieni nella barca perché altrimenti scappo senza te sono sicuro che qui dentro c'è me lo sento non di nuovo non è mai successo allora c'è una radicina abbastanza inutile allora ok ci provo oh ti hai trovato l'ho trovata l'hai trovata? oh mamma mia ce la devo fare ne ero sicuro ce la devo fare ce la facciamo ce la facciamo se Jason in questo momento non mi sente scappiamo in 5 minuti no dimmi che non è venuto qua cavolo allora se è vicino a me se dovesse essere anzi vicino a me faccio da esca e tu scappa ma è ovvio ma no no non era ovvio c'è solo che voglio davvero riuscire a fare questa fuga in 5 minuti era ovvio quindi allora sinistra destra no ho sbagliato sinistra ci sono ci sono ci sono questa volta non rimarrò qui ok veloce sto accendendo adesso però non sto correndo perché se faccio chiesto adesso lui arriva qui e ci uccide quindi sto arrivando in corsetta ferre faccio chiesto a priori adesso corri corro perché sto accendendo il motore corro velocissima eccomi sto arrivando solo questa allora 4 minuti e 30 4 minuti e 30 ferre sali vai vai corri è arrivato corri è arrivato cavolo io odio ferre cavolo ferre ci ha preso ci ha buttato giù corri 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 via corri ti ha preso? si ha preso a me come sempre come sempre prende me stai più te l'avevo detto che non dovevo correre no ferre ha sentito il motore no dai secondo me non sarà no no il motore fa rumore il motore fa rumore dimmi che non ti ho dimostrato che è fattibile più o meno ti ho dimostrato che è fattibile allora con la barca si con la macchina io lo vedo un po' più difficile esatto forse in 10 minuti con la con la macchina quindi non lo so bisogna sperare di essere di nuovo in una mappa dove c'è la barca esattamente ho pensato alla stessa identica cosa perché con l'auto servono tre cose e non due perché abbiamo bisogno della benzina del motore quindi della batteria e delle chiavi anche se poi c'è da dire che in barca è facile prepararla ma è facile essere acchiappati quindi è un po' però è stata colpa tua quindi se scappo da solo ce la faccio è stata colpa tua no è stata colpa tua avviamo i 5 minuti allora sono lontanissima da Fere ma dato che Fere è vicino a un'auto andiamo lì purtroppo non c'è la barca quindi partiamo già un pochettino male però mentre io raggiungo Fere lei inizia a cercare degli oggetti quindi batteria benzina e chiavi ho fatto tutto quello che posso trovare e vediamo se riesci già a trovare qualcosa speriamo speriamo sento di player che vorrebbero comunicare con me ma non c'è il tempo per chiacchierare no stavolta no e fare conversazioni noi qui abbiamo fretta qui abbiamo fretta dobbiamo farcela quest'oggi dobbiamo vincere sento già che c'è Jason che si muove e che noia spero che non sia vicino a me e neanche vicino a me dato che io sono vicino all'auto anche sarebbe una bella cosa anche però tutti i player sono dall'altra parte sarebbe assurdo che viene proprio da te Fere ancora non hai trovato nulla? no ho visitato solo una casa che era molto grande ma per ora niente mi dispiace niente neanche le chiavi nulla niente niente ho controllato tutti i cassetti niente porca miseria vediamo un pochettino qui dentro io sto continuando a correre sto cercando di arrivare il più in fretta possibile Fere sto passando da posti davvero dispersi nel mondo attenzione eh sì sono un po' preoccupato se poi mi muori nel tragitto allora allora è passato un minuto abbiamo ancora 4 minuti però se non mi trovi nulla entro 30 secondi mi ti sa di primare allora ho trovato un fusibile però Steph ok quello che serve secondo me per aggiustare il telefono per poi chiamare la polizia ho trovato anche le chiavi perfetto perfetto ho lasciato il fusibile una volta che il fusibile non ci serve lo trovi eh lo so si cerca benzina e batteria ci servono solo quelle due cose ce l'abbiamo fatta ok io vado in questa casetta che ho qui Fere c'è un problema dimmi eh ha messo delle trappole dove dobbiamo e lo so cosa faccio? con te che io sto aggiustando il fusibile ha messo delle trappole pure qua è difficilissimo mister freddy I have the gas but there is a trap eh che ci no 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 so ma che si prende la trappa ok ok è dietro di me è dietro di me Steph che bello eh lo so eh lo so si fa tanto chiasso con fusibili auto e tutte queste cose mi son preso una trappola addosso ma mi ha fatto anche malissimo allora hai controllato se in questa casa c'è il telefono? eh sì è lì il telefono Fere mi chiudo a chiave ok sei teletrasportato hai visto? eh sì eh sì il mio personaggio ha una paura incredibile è abbastanza anche il mio allora stiamo vicini e cerchiamo di fronteggiare hai una cura? no Steph non ho trovato manco una manco una Fere perché sta spaccando tutto vero? lo so lo so che sta spaccando tutto io ho il flare per scappare via però sono feritissimo vado a controllare in bagno se c'è una cura vai 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 ah guarda sto panicando tantissimo no Russo ti prego ti prego non mi rubare st'ha rubata c'era Steph c'era uccidilo can you hear me please? io ci provo no uccidilo Steph uccidilo io lo uccido abbiamo ritrovato Alvarito ve lo ricordate quello che mi aveva regalato una cura l'abbiamo ritrovato in un game così a casaccio vuol dire soldando una cosa che bello che emozione che questa è la partita fortunata sì perché c'è Alvarito che ti ridarà di nuovo una cura impegnati tantissimo perché dobbiamo vincere in 5 minuti in onore di Alvarito sì ma poi ci pensi che coincidenza come fai a ritrovarlo così a casaccio una persona che neanche conosce è il potere dello spagnolo Fede c'è la barca te l'ho detto che è il game giusto bello bello vado verso la barca vieni verso la barca vado vado io sto entrando qua e secondo me trovo già una delle due cose tu vieni verso di me ho già trovato la benzina ho già trovato la benzina perfetto allora ho avviato anche il timer andiamo 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 questa è una volta buona Steph sì sì Fede questa voglio portare con noi anche Alvarito scusa guarda che i consulini hanno apprezzato molto il suo gesto di averti dato una cura sono tutti affezionati a lui e tutti se lo ricordano quindi però dovrà morire povero Alvarito no no io dico i campioni possono essere pochi già ci sto rimettendo a portare a te stai zitto se mi do portate pure Alvarito Fede ma povero Jason viene e ci canta despacito mettila dai impegnati allora io sono già in una casa a cercare ma sei vicina sì quella più vicina alla barca ok bravissima ok ho trovato l'elica stai scherzando corri qua immediatamente e non correre perché non dobbiamo fare rumore corri ma non correre esatto allora Steph sto correndo con l'animo col mio cuore ma non cosa è successo c'è Jason dai che noia però ma perché deve venire nella barca a rovinarci i piani Fede mi ha visto mi ha tirato un coltellino non l'ho schivato che faccio manco fossi Matrix allora Fede io lo porto via ok allora dovremmo vai nella casa alla destra ok l'altra ok vabbè entra in una casa non romper mistero entra in una casa entro stiamo rischiando però se tu mi stai portando dietro Jason sì ma ti spiego adesso cerchiamo un'arma decente qui quando noi arriviamo alla barca lo sparo con quell'arma in modo tale da difenderti sicuro di poter sparare con un'arma con un tubo adesso tu io spero di trovare qualcos'altro Tommy Jarvis qual l'hai chiamato? mi sa che ha tolto la corrente quindi non possiamo chiamare Tommy Jarvis maledetto ok ho già i petardi se trovo addirittura un flare o comunque qualcosa di forte lo massacriamo proprio lo massacriamo e secondo me lui nel mentre se n'è già andato da qualcun altro avrebbe senso prova a uscire che dici? prova a uscire non siamo ben armati perché ho soltanto il macete? lo so ho il macete non è l'arma migliore del mondo per difenderti però macete aspetta è di fronte a me mi ha preso mi ha preso con un coltellino no no ma coltellino Ferre non mi ha preso lui ma io non posso andare a sistemare la barca cioè non posso perché lui mi acchiappa al volo cioè come faccio? mi uccide sono curioso di vedere quanto no non voglio più vedere nulla nella vita aiuto 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 mi ha ripreso però mamma mia porca miseria porca miseria ma proprio la barca deve andare guarda che è noioso ok sono morto è noioso sono morto io entro qua ma sono morto aspetta tiro i petardini li hai trovati? credo di averlo sì l'ho stunnato ok ok allora sono bassissimo di vita ok perché devi urlare così Steph? scusami no Steph è successo non hai capito cos'è successo a me mi ha preso attraverso il muro sì 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 allora bello bello questo gioco bello a parte che mi sono distrutto le corde vocali ma io mi sono spaventato perché ho tirato i petardi mi ha segnato in base a sinistra che l'avevo stunnato quindi l'avevo bloccato un secondo dopo è dietro di me che mi colpiva a me ha preso attraverso io ero nascosta c'era una finestra aperta ed ero dietro il muro lui è passato davanti alla casa mi ha preso attraverso il muro Steph bello bello questo gioco mi piace tanto abbiamo fallito ma secondo me abbiamo anche dimostrato che ci si può riuscire semplicemente se qualcun altro distrae Jason secondo me ma bisogna avere quella fortuna in cui Jason non punta per prima a te esatto alla barca quella situazione ce la si può fare allora ti dico esattamente proprio testuale testuale il piano che noi faremo nel prossimo video perché io ci voglio riprovare allora noi metteremo i personaggi che quando camminano non fanno rumore staremo dentro le casette a cercare tutto quando abbiamo tutto andiamo in contemporanea piano piano alla barca montiamo tutto e scappiamo dritti per dritti perché secondo me è così lui nel mentre va a cercare qualcun altro e se sta cercando qualcun altro non nota noi e scappiamo dobbiamo semplicemente panicare meno su quei cinque minuti cercare diciamo di accettare di perdere il primo minuto minuto e mezzo e poi sfrecciare via e scappare però è difficile con Jason ci riusciamo ci riusciamo a fare nessun sicuro ma non ci siamo riusciti oggi però è che se io sono stessi è tutto lasciateci un bel like e se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare lì ed iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao ciao ciao